Eccolo qua, ci sono, ci sono Ok, ok, ok Bene Ha copiato Ci è rimasto male Era preparata, era preparata Oddio la compressione, che schifo La compressione di Youtube Ma così parte? Aspetta, Fir Ganondorf, cosa? Ma è Ganondorf? Smash? Cavolo, oh che bello Yeah Ragazzi, ragazzi Bello Oh, grande Mi piace già Sakura in mezzo No, 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 il capitano no No, il capitano no, è il mio main Non puoi farlo, è il mio main Capitan Falcon Ah, Pit Tutti l'ha uccisi Ah, più Più ne fa fuori Più diventa fuori È giusto È giusto Ah Sono contento Akkuman No, non era Akkuman Akkuman è un altro personaggio Sono molto soddisfatto Partiamo bene Partiamo bene, raga Partiamo davvero bene Se non altro Non è uno spadaccino Però anche lui è projectiles Quindi ci sta Mi piacciono molto quelli fisici Se non altro Vabbè, tu vuoi uccidere Kirby Pensavo fosse The Legend of Zelda Così proprio all'inizio No, non lo farebbero Perché vedo Ganondorf Mi sembrava un po' smunto Invece no Non era Ganondorf Forma demoniaca Ganondorf forma umana Quindi, vabbè, alla fine Era per forza Smash Ok, un po' di titoli per Switch Allora Baldo Voglio vedere Baldo Se non altro Magari Ah, ok Vabbè Le sequenze mostrate Sono in fase di sviluppo Ma a parte questo Girerebbe meglio Su Switch Pro Li giocherei Anche fosse su computer Visto che ho Una bestia di computer Madonna L'altro giorno 40 minuti di questo C'è stato Nel direct di Square Mamma mia Che due palle Che ci hanno fatto Magari è bello Quanto vuoi Però L'altra volta Mezz'ora quasi Su Square Di quello Di quel titolo Monkey Ball Eh, sarebbe ora Questo potrebbe essere interessante Se qua mi mandano lo strike Sul canale Per il copyright Vabbè La muto Al limite Ah Tutta quante La remaster Quindi Carino Tutti davvero Buono Eh, con quale No grazie Mi piace Super Mario Party Però Giochi per tutti i gusti Ma non per me Comunque Quattro anni fa Dico solo questo Ah Allora Era un vero leak Quello Accidenti Accidenti Metroid 5 L'hanno chiamato Però non può essere Aspetta È tipo Fusion No Ho capito Forse Com'è Boia Ma cos'è Un geco Ok 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 Grande Interessante Dread Classico Metroid Cioè Classico 2D Intendo Bello Vediamo un po' Basta Per favore Ma perché Ancora Un gioco di corse Vorrei un'altra cosa Mario Golf Interessante Ma non è Nei miei Most Wanted Ah Arriva anche Su Switch Oh Beh Ok Interessante Che sono un fan Di WarioWare Quindi Abbiamo altri 20 minuti Eh Può succedere Di tutto Ah Shin Megami Tensei 5 Demo Bomba Bella Porca miseria Vai di metal Amico mio Wow E poi qua Tra Persona E Shin Megami Tensei Sono così Eh Quindi potrebbero esserci Riferimenti A persona Proprio palesi Ah Questo mi interessa Molto Sembra davvero davvero carino Beh come il primo eh Il primo era abbastanza interessante Il secondo dovrebbe esserlo ancora di più Ah Mighty Switch Force No Oh Cavolo Oh 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 Sì Questo sì Sì Dai Accidenti Sì Questo mi piace Cavolo Canterà bello Advance Wars Mamma mia Che bello Sono contentissimo Di questo titolo Bene 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 Ultimo annuncio Che dura Cinque minuti in meno il direct A meno che questo annuncio non dura dieci minuti No No vabbè È l'ultimo E lanciano poi la bomba finale Ovvio Ah bene Sì Iniziamo da Skyward Sword Ovviamente Ovvio Questo è uno dei titoli più importanti Anzi il più importante della saga di Zelda Da qui tutto quanto è inizio Quindi deve andare Deve essere giocato assolutamente Cosa? Ma no Cade anche il quarantesimo Di Donkey Kong Eh Carino Questo se lo compro Lo terrei chiuso Ecco Eccolo Eccolo Per carità Non ne avrei fatto un dramma Se non ci fosse stato nulla Però Sono contento di vedere qualcosa Dopo Dopo l'annuncio Dopo Insomma Uno Zelda Dopo quattro anni Quattro cinque anni Ci sta eh È sempre così è stato Quindi prossimo anno Potrebbe uscire tranquillamente Dico Autunno Autunno Inverno Inverno Però vediamo Ma che ha fatto al braccio? Oh Interesting Ah Al volo? Possiamo farlo al volo? Al volo Sarebbe meglio Si è risvegliato Certo che la compressione del video Fa paura Mamma mia Metti i brividi Questo è da rivedere Poi una volta finita la presentazione In full HD Con calma 2022 È ovvio È ovvio Danno un generico 2022 Però era ovvio Bello Bello Si era anche visto Ma grazie a te che ci hai fatto vedere qualcosina Allora Allora Avrei voluto vedere altri titoli Però non mi lamento Per quanto riguarda titoli Per quanto riguarda titoli tipo Però almeno Però almeno Terrà Dato che davvero Va bene Va bene Facciamone a meno Breath of the Wild 2 Perfetto Molto Mi è piaciuto molto il trailer Poca roba Poche informazioni Ma Link che Forse può bloccare In Sul momento La stasi Quando ha bloccato Le palle di ferro Che cadevano Senza usare La tavoletta Shika Sarebbe davvero Una gran cosa Abbiamo visto Anche poi lui Che Passa attraverso Il terreno Stupendo Io non lo so Ditemi voi cosa ne pensate Nei commenti Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Ripeto L'hanno detto anche loro Ci sono titoli Che non vi abbiamo mostrato Ma Qui erano Poche Era poca roba Comunque Molto Third party Poca roba First party Oddio Si sono bilanciate Comunque ci sta ragazzi Ci sta Mi è piaciuto molto Davvero